Ciao a tutti ragazzi, eccoci qua tornati in un nuovissimo video di Live Reaction, Verona, Lazio in questo caso. Come state? Buon pomeriggio a tutti, come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non lo avete fatto e attivate la campanellina, lasciate like, insomma le solite cose. Quindi, ciao a tutti, da Manuel e Fabrizio, buongiorno. Ciao ragazzi, prima di cominciare via alla nostra sigla! Ciao a tutti! E le formazioni per questa terz'ultima giornata di campionato, partiamo subito con la nostra lazietta, con il modulo 3-5-2, Stragoscia-Frepali, Acerbi, Luis Felipe e Patrick in difesa, centrocampo con Javan Anderson, Luis Alberto Varolo, Milinkovic e Marusic e in attacco Immobile e Correa. Perfetto, mi raccomando, come diciamo sempre, iscrivetevi al canale YouTube, pagina Facebook, per rimanere sempre aggiornati su quello che ci gira da fare in merito a questa storia. Sta per cominciare questa partita Verona-Lazio, è una partita che dobbiamo dargli un senso, il senso è quello di vincerla per rimanere aggrappati alla possibilità di prenderci ciò che ci compete, e quindi parlo del secondo posto. Fabrizio, due sensazioni per questa partita? Beh, per come abbiamo fatto finora, credo che pure questa è brutta da dire, però o pareggiamo o perdiamo, cioè se continuiamo così. Io invece, come si dice a Roma, me la sento calla, nel senso che per me la Lazio vince, magari c'è da soffrire perché il Verona comunque è squadra che ha una sua identità di gioco, gioca un gran calcio, però vince. Ok, ci siamo quasi, l'arbitro sta per fischiare, via! Partiti! Partiti! Luiz Alberto è mezza a tre, se li beve, palla per Correa, verticellate di Correa, ancora per Luisito, Luisito, Luisito con la sola, ragazzi, Luisito è uno spettacolo, mette a terra con una finta l'avversario, Milinkovic, Milinkovic, Lazio c'è ragazzi, te ne accorgi subito come giostra con la palla. Comunque, dieci minuti e già vedo la Lazio meglio. Sì, sì, ma te ne accorgi come brillantezza, come tiene la palla tra i piedi. Sì, sì. Se vede subito che Luisito Alberto sta in giornata, che Milinkovic sta bene, Ciro è mobile, lo vedi immediatamente quando lo vedi reattivo e brillante, te ne accorgi subito. No, la Lazio riprende palla, Milinkovic, scavetto, salta il dietro avversario, Milinkovic, bella palla per Correa, Lazio in area di gole, Correa, Correa, attenzione, Correa, Correa, scarica dietro, Milinkovic ispiratissimo, attenzione Sergei, mamma mia ragazzi, la Lazio fa delle cose difficilissime, con una semplicità disarmante, Luisito Alberto di tacco per Correa, che bello, che bello che testa Lazio, cambio di direzione, ancora Giavan, oh ragazzi, grande tecnica di Giavan, è forte, bella tecnica di Giavan Anderson, ottima tecnica, controllo di suola, cambio di direzione testa sinistra in mezzo secondo, bel giocatorino Giavan, ecco la Lazio che per te, mamma mia che azione, da Cineteca lui si muove, Ciro è mobile, palla alta, ma che azione ha fatto la Lazio, ma che azione ha fatto la Lazio, Fabrizio, ti scrivi questa azione, è bella, lì c'è proprio immobile che nella parte destra dell'area di ricorre del Verona tira una camionata sotto l'incrocio, peccato che... C'ha il piede caldo, c'ha il piede caldo Ciruzzo, poi Correa che dopo il tiro d'immobile va lì a rincuorarlo, la Lazio sta giocando per il suo bomber, si vede ragazzi, ci sono in paglio numeri prestigiosissimi, eh. A Cerbi anche lui sa meglio. A Cerbi in campo che in settimana ha tranquillizzato tutti sulle sue condizioni. Comunque il Verona gioca bene, eh. Faraoni non ci viene più alla Lazio. Faraoni potrebbe venire alla Lazio, pensa che è un prodotto della Lazio, ha giocato in primavera ma non ha mai, è stato in prima squadra ma non ha mai esordito. Pure Pessina, bel giocatorino, eh. Parolo, era fallo su parolo, arbitro, è il namo. Ha detto Sky, Juric detta i tempi anche ai raccattapalle, quando rallentare e quando accelerare per restituire la palla. Mazzo, sportivo. Sportivo sto Juric, eh. Sportivone. Comunque il problema della Lazio, in alcune partite gioca bene, e poi dopo, verso tipo al 45esimo, prendiamo un gol, è sempre così. È sempre così, speriamo che oggi ci riusciamo a fare qualcosa, perché gioca sempre bene la Lazio e poi vi piace. Hai ragione, è capitato spesso questa cosa, c'hai ragione. Però è anche vero che abbiamo pure rimontato, spesso durante quest'anno siamo andati sotto, non ultimo l'altra settimana, ma te ne accorgi. Passione sulla sinistra per Correa, puntalo Correa, puntalo per il doppio passo tuo. Correa dentro per Ciro, Ciro. Mamma mia, per poco autorete. Ciro stava scaricando gli ato per Luiz Salberto, è intervenuto un difensore del Verona che l'ha buttata fuori di rimpallo e per poco autorete. Angolo Lazio. Perché? Vi ricordiamo ragazzi, ve lo diciamo già da adesso, perché abbiamo dei problemi organizzativi, questa live action la pubblicheremo domani pomeriggio, ragazzi. Domani pomeriggio la pubblicheremo. Parolo sta facendo una buona partita anche oggi, eh. Meno appariscente della sontuosa gara giocata contro il Cagliari, ma sempre nella zona nevragica del campo. Se non sbaglio è l'ottavo, la nona partita consecutiva di Parolo. 35 anni, ragazzi. Attenzione, attenzione. Attenzione. Stragoscia si deve allungare alla sua sinistra perché il tiro di Veloso era buono e velenoso. Scusate il gioco di parole a Rima, però vabbè, è una partita sotto controllo. Non è che sta a fa' chissà che il Verona, eh. Sì, però comunque sta tirando il tiro della Lazio in questo momento. Ma sei sicuro? Ha fatto un tiro il Verona. Negli ultimi 10 minuti. C'ha il pallino, c'ha la palla. Sì, negli ultimi 10 minuti. Guarda che bravo Luis Felipe. Guarda che la tecnica, ragazzi, è fondamentale. Luis Felipe stava saltando in azione difensiva per spazzare la via di testa, invece fa la finta e di piatto con grande eleganza fa ripartire l'azione della Lazio. Pressing del Verona molto alto, ma la Lazio lo elu... Guarda che ha fatto... No, vabbè, ragazzi. Luis Alberto è un mago. È un mago, gliela ha incartata. 4 contro 4, 4 contro 4. Luis Alberto scarica la testa per Parolo, Parolo. In alto per Marusic. Marusic, palla morbida. Attenzione, Luis Alberto. La difesa del Verona, Mura. La difesa del Verona, Mura. Bellissima azione della Lazio. Che cosa? Invece calcio, posizione della Lazio. Sì, siamo al limite dell'aria di rigore. Alla sinistra del portiere del Verona. Per me era dentro. No, ma che dentro? Non fai romanista, Fabri. Vediamo un po' lo schema. C'è il ciro immobile. Oh, mamma mia. Bello schema. È uscito dalla mischia indietro, a ritroso. Milinkovic che ha provato il tiro a giro di collo. Bella sta cosa. Mi è piaciuto. Palla alta. Per poco. Fa vedere. Porca miseria, ragazzi. È uscita tanto così. Tanto così sopra la traversa. Partita combattuta? Sì, perché quello è fallo. Arbitro fischia me sto fallo su Milinko. E cioè, dai. La Lazio riparte subito. Colpo di tacco di immobile che scarica per Correa. Già sta in aria, Correa. Correa ribattuta da un difensore. Annoggia, manca sempre pochissimo. Ragazzi, la Lazio manovra in una velocità impressionante, in un fazzoletto di campo così. È tornata la Lazio quella che sta tirando fuori a livello tecnico il top di se stessa. Allora, secondo te, Fabrizio, meriteremmo il vantaggio adesso? No. Ah, no? Io dico te sì. Per me adesso la Lazio meriterebbe di chiudere il primo tempo in vantaggio. Per quello che abbiamo visto. Io dico ancora no. C'è fatto niente. C'è fatto niente. Parolo ha l'ennesima palla recuperata da Parolo. Infatti, bravo Milinko. Perché Iuri c'è chiacchiera, chiacchiera. Milinko c'è, si è avvicinato. E ha detto, va, la fai finita. Te lamenti di tutto. Questo non era fallo. Al primo tempo gioca bene? Sì, sta bene. Tiene bene il campo. Vedi che il pressing è alto. Vedi che adesso di nuovo il pressing è coordinato sul portatore di palla avversaria. Non è come qualche partita fa, che ognuno è andato per cavoli suoi. Esatto. Ma alzate a bello. Ma fa la finita dei fast-trade. Ma come rigore? Ma quale rigore? Ma no, mo' c'è la varra. Non ci credo. Ma quale rigore? Ma pure il giocatore del Verona guarda che faccia. Non ci crede. Ma sì, infatti. No, fermi un attimo. Fermi. L'arbitro ha tranquillizzato, ha detto varra. Sì, non è rigore. Luis Pelipe la palla scorre. È cascato da solo. È cascato da solo, Rachmani, come cacchio. Zaccagni. Non è rigore. È cascato da solo, ma alzate. Ragazzi, sicuro il rigore non lo dà. Impossibile dare stigore. Ma guarda questo. Ma se può tuffarlo. È impossibile. Guarda, 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 guarda. Pure Zaccagni. Pure Zaccagni. Quando lo va aiutare Luis Pelipe gli dice che non c'è rigore. No, no. Mo' c'è la varra in corso. No, ma stiamo tranquillizzati. Non li può dare, assolutamente. Ma assolutamente è impossibile dare questo calcio di rigore. La varra c'è questo motivo. Certo. Non ha senso dare un rigore del genere. Stanno tutti a ride in campo, ragazzi. Una barzelletta. Stanno tutti a ride. Ambramat, posa qua la palla, va, che già si è ronta attirata. Ne hai capito ancora. No, confermato rigore. Ragazzi, confermato rigore. Questo è uno scandalo. No, ragazzi, non c'è credo. Rigore confermato per il Verona. Ma questo è uno scandalo totale. Non è possibile. Non è ancora segnato in questa stagione. Magari qualche giocatore... Ma che c***o ti riti, arbitro? Ma che c***o ti riti? Ma secondo me ha visto bene. No. Ma che... Senti questi... Senti Pescai. Secondo me ha visto bene. Pure Pescai c'era rigore. No, vabbè, non c'ho parole, regalo. Che scandalo sto rigore dato. Mamma mia, regalo. Mi fa paura sto rigore. Perché te... Te li possono dare... Allora possono dare rigore in qualunque momento. Fermi un po'. Aspetta un attimo. Pensavo che l'ha andato a vedere... Nemmeno è andato a vedere Vara l'arbitro. Io pensavo che stava ancora andato. A Stragò, paragli sta palla. Appena paragli sta rigore, Stragò. Golder Verona. Stragòscia ha spiazzato, regà. Io sono scioccato. Senza parole. Sono scioccato da sto rigore dato al Verona. Bravi, siete... Bravi, festeggiati, siete contenti. Va bene. Tanto se non siamo in gioco a male ce lo rinnaio. Mannaggia la p***a, la rimontiamo pure adesso. Contro ogni ingiustizia, la rimontiamo pure adesso. Stai partita. Più vedo... Ma quale rigore! Quale rigore! Più vedo sto... Più vedo sto replay. No, ragazzi. No, no. Mettete a centro sta palla, pareggiamo la prima data nel primo tempo. Mettiamo al centro sta palla, mannaggia la miseria. Forza, 5 minuti alla prima del primo tempo. Dai, Lazio, giocatela subito. Calmi, calmi. Giochiamo come sappiamo fa noi. Se c'era una squadra che meritava il vantaggio, lo stavo a di prima del vantaggio loro. Ho portato pure sfiga. Quello, quello era... Guarda che ha fatto a Cerbi. Mo me l'ammonisci. Mo me l'ammonisci. Guarda la cattiveria. Guarda la cattiveria d'Immobile che va subito a prendere la palla. Guarda la cattiveria d'Immobile che va subito a prendere la palla. La Lazio c'ha fame. La Lazio c'ha fame. Mi piace sto carattere d'Immobile. Giusto così. Come rovinare una partita? Parte 2. Però ha avvelenato il Mo me l'ammonisci. C'ha la cattiveria, è reattivo. Vedi, quando è rientrato fino a metà campo per dare una mano alla squadra, vuol dire che c'è sta. Quando è piantato davanti vuol dire che non c'è sta fisicamente. Invece, quando viene dietro, tre minuti alla fine. Ma bravissimo Luis Felipe. Mamma mia Luis Felipe. No, non ci credo. Ha fischiato fallo a Luis Felipe. Ha preso la palla piena. Ha preso la palla piena e gli ha fischiato fallo. Non ci credo, ragazzi. Ha preso palla piena. Arbitro assolutamente. No, ma come si fa a fischiato fallo? Ma che cosa? Ma chi te fanno? No, ragazzi. Arbitro assolutamente. Arbitro assolutamente. Per favore. Arbitro assolutamente in confusione, ragazzi. Tra l'altro, ragazzi, i commentatori di Escai, una cosa imbarazzante. Non c'è stato il contatto. Non so chi sono, non me ne frega niente. Stanno a basso volume, ma stanno a una stupidaggine dopo l'altra, ragazzi. Addirittura poco fa il commentatore, chi si occupa di tattica tra i due, diceva di scambiare le posizioni tra Milinkovic e Correa. Ma che stai a dire? Ma chi sta mai a giocare a Lazio? Ma che stai a dire? Correa scarica per Luis Alberto. Un po' più arretrato rispetto al solito. Taglio dentro per Milinkovic. Immobile, dammi la punizione. Dai, adesso però... No, Correa, fallo su Correa. Dice pure... No, no, ma vaffancino. No, no. Che rabbia, 45esimo minuto, stiamo a perdere, ragazzi. Il Verona non ha fatto niente. Se c'è una squadra che ha fatto qualcosa per dircela, quella siamo noi. Andamocene nei spogliatori, dai. Ordiniamo le idee. Guarda giù Yuric, gioca, gioca. Aveva manata a Luis Alberto. Oh, Yuric mi sta a far venenare. Ancora, attenzione, perché c'è sta palla che rimbalza. Oh! Ciro e mobile, fallo sui mobile. No, 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 voglio vedere play. Fermi un attimo. Voglio vedere play, fermo un attimo. Peccato che non si è visto bene, perché hanno fatto subito il cambio da replay. Non si è visto molto. Voglio vedere play, c'è Ciro e mobile per terra, ragazzi. Fermi un attimo. E dai. Favete un attimo. Ciro e mobile. Oh! Questa è ricore! Ma no, l'ha preso pure col piede. L'ha preso pure col piede. Eh, no, ha gomitato. Questo è il calcio del ricore tutta la vita. Con il ginocchio. Non vi inventate niente, eh. Favete. Guarda che ginocchiata. Oh! Ginocchiata bruttissima. Ginocchiata qua del gioco. Ricore al 100%. Ricore al 100%. Fallo di quello che finisce con la cipola me. Ricore Lazio sicuro. Pur ammonito. Ricore Lazio sicuro. VAR è in corso. Aspetta un attimo. Ma che VAR devi dire te? Ma ho capito, oh. Ricore Lazio. Non vi inventate niente. Se hai dato quella pagliacciata di prima di ricore, questo è straricore. Da che andiamo spogliato sul pareggio. Quarantottesimo. C'ha ragione, Nzaghi. Ricore Lazio. Attenzione. Si sta discutendo alla VAR se dare il ricore alla Lazio o no. Aspettate un attimo. Ma che devi discutere? Siti un attimo. Stanno decidendo. Dice arbitro che si fida ciecamente della VAR. Non ce va mai, oh. C'è l'attesa per la decisione della VAR. Oh, ma guarda che ginocchiata che gli è da sul gomito destro e sul corpo a immobile. Ricore nettissimo. Addirittura poi la prende pure col braccio. La prende pure col braccio dopo. Quindi fallo su immobile e più la tocca col braccio. Ricore nettissimo. Ricore nettissimo. Calcio di rigore. Calcio di rigore per la Lazio. Non c'è da discutere lo sto rigore. C'è da discutere su quello che hanno dato a loro prima. Ed ecco Ciro che si va a prendere la palla. Ciro è immobile. Dai Lazio, chiudiamo sto primo tempo in pareggio. Ciro è immobile. Attenzione, l'arbitro fischia. Ciro è immobile. Il tiro. Andiamo. Il portiere ha intuito, ma Ciro è chirurgico nei calci di rigore. Continuata di tanti rigori, tanti rigori. Devi sapere che tirai i rigori. Veloce R7 che ha sbagliato già quest'anno. Ricore chirurgico fortissimo. Tirato angolato alla testa del portiere da parte di Ciruzzo. Imparabile. Il portiere ha intuito, ma quando sei arrivato sul pallo già stava in porta la palla. Guarda che rigore fantastico. Ha colpito addirittura l'interno della porta sulla laterale. È un rigore perfetto. Impossibile da parare. Si è imparato. Ma che si è imparato? Ma Ciro ha sempre tirati bene. 1-1. Ricore fantastico di Ciruzzo. Ce ne andiamo alla fine del primo tempo. Tranquilli. Il primo sta per finire. E l'arbitro manda tutti a casa negli spogliatoi. 1-1 ragazzi. Risultato bugiardo. Perché la Lazio secondo me doveva stare avanti. Vai Fabri. Comunque Sky ha fatto vedere una foto. Mai vista una cosa del genere? Due falli. Nello stesso ombito. La cinocciata e la mano in una foto. Esatto. Identico così. Una gamba e la mano. Andiamoci a riposare. Dai che il secondo tempo si entra il capo per vincere pure questa. Sarebbe l'ennesima rimonta. Dopo ragazzi. Forza Lazio. Dai. Ed eccoci ragazzi. Partito da poco il secondo tempo. Il Verona subito in attacco. Ambra Pat. Non mi sembra che è cambiato nulla a livello di sostituzione. Attenzione Verona. Bravo Milinkovic che ci mette il corpo. Lo vedi Marusic. Bravo Marusic. Lo vedi Marusic come ci mette il corpo. Marusic. Rispetto al Marusic di due anni fa è molto più funzionale alla squadra Lazio. Al gruppo. Secondo tempo. Intanto andiamo tra le righe. Andiamo a ricordare che se la Juventus vince stasera. è matematicamente campione d'Italia. Milinkovic di petto con una forza disarmante. La stoppa e schiaccia per Luis Alberto a terra. Mamma mia che giocatore. Mamma mia. Mamma mia. Mamma mia. Luis Felipe scivolata. Intercetta il cross. Chi è questo? Girate. Intercetta il cross del sinistro del Verona. Con Stracoscia abbattuto. La palla prende un arco e va a battere sul palo. Verona vicinissimo. Di nuovo ha un vantaggio che sarebbe stato ancora più immeritato del primo. Sto a palla che gira e va fuori verso il palo sembrava destinata al gol. Fosse in segno del destino ragazzi. Ancora Verona. Però il Verona rischia di prendere coraggio. Ora chi è che sta a merita? Mamma mia. Verona vicinissimo ancora al vantaggio ragazzi. Palla fuori alla sinistra di Stracoscia di un soffio. Dai Lazio tranquilla. Tranquilla. Mamma mia ragazzi. Verona pericolosissimo. Due azioni pericolose in un minuto. Ancora Verona. Angolo Verona. Ragazzi occhio perché sono due minuti che il Verona ci sta martellando. Mamma mia. Alleggeriamo un attimo ragazzi. Lazio alleggerisce. Rallenta il tempo. Rallenta lo svilupparsi di azione perché capisce che ha passato due o tre minuti davvero in cui il Verona ci ha messo paura. Va detta la verità. Vero. Non è uscita. Perché Correa non ci ha creduto? C'ha ragione. Correa ha questa cosa che purtroppo... La palla è recuperata. Attenzione. Rimessa la della Lazio. C'ha ragione. Correa è delle volte poco tignoso nei contrasti, nella lettura delle palle che vanno via. Ma vabbè se sapete il Verona è una bella squadra. Ci mette in difficoltà tutti i ragazzi il Verona. Se non sbaglio ha battuto pure a Juve. Milinkovic supporta Jovan Anderson. Molto cercato sulla sinistra. Luisa Alberto. Luisa Alberto. Palla per Milinkovic. Mezza. Punizione. Non lo so. L'hanno devastato. Gli è arrivata una botta dietro alla schiena. L'hanno buttato giù. Punizione Lazio. Cinquantacinquesimo minuto. Da sta distanza Milinkovic. Non è per Luisa Alberto sta palla. Tira Milinkovic. Ha fatto... Un cenno di intesa con Luisa Alberto. Attenzione. Questo era il punto di Pirlo. Pirlo da là ci segnava. Attenzione. Punizione Lazio. Milinkovic che da qua con la Juventus e poco c'era il Parigi al 95esimo. Ti ricordi? Due partite fa. Se la giusta Milinkovic c'è tira lui. Adesso è abbastanza evidente come cosa. Punizione Lazio. Cinquantacinquesimo. Sergei. Sergei. Punizione di Sergei. Rete! Compagno mia! Lazio in vantaggio! Sergei! Il tiro! Allora fatemi vedere. Per me c'è una deviazione. Vediamo un attimo. Vediamo un attimo. Il Sergente. Il Sergente sommerso dai suoi compagni. Vediamo un po'. Lazio in vantaggio. Lazio in vantaggio. Vi posso dire la verità. Siamo passati in vantaggio nel momento più di difficoltà. In cui obiettivamente il Verona ci aveva messo un po' in difficoltà ragazzi. Un bel po' in difficoltà. Nell'ennesima gara ribaltata ragazzi. Vabbè ha fischiato a Borin. Per me questo era fallo per noi. Pensate. Comunque sto Zaccagni. È buono. Zaccagni merita. Zaccagni è bravo. Quanto manca? Ancora mezz'ora. La decisione da lui è Salberto. Oh! Stragoscia para. Che botta. Raga però dobbiamo salire. No 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 l'ha presa qua. L'ha presa qui a Cerbi. Fa vedere? No no l'ha presa qui sul fianco. Non l'ha presa sul fianco. Questo non è rigore eh. E infatti l'arbitro appena volta vede bene. Ma che stiamo a scherzare? Se dà pure questo. Già gli ha fatto quel regalone al primo tempo. Ragazzi andatevi a vedere il gol dato al Verona. Il rigore dato al Verona. Uno scandalo totale. Mamma mia. Hai visto Ciro che ha fatto? Sì. Milinkovic. Mamma mia quant'è ispirato Milinkovic. La palla è recuperata. Bravo Luiz Alberto. Milinkovic. Era di rigore. Milinkovic. Correna. Era di rigore. Mamma mia. Non c'è stacca per niente. Menoio di gol. Mamma mia Correa. È un gol dei suoi. Diagonale a secare proprio una linea retta che balla a sinistra del portiere del Verona. 3 a 1 ragazzi. E andiamo. Sono andato. Ottava rete di Correa. Sono andato in difficoltà. Pure io non ci ho capito una mazza. La palla andava a 2.000 all'ora. Brava Lazio per merito di Luiz Alberto che è andato in pressing sul primo difensore che la spazzava via. Vedi? Milinkovic ce l'ha recuperata. Poi ha disegnato il passaggio per Correa che in mezzo a 2. Bravo. Bravo Correa. Lazio che fa 3. Lazio che fa 3. Si mette a distanza di sicurezza. Anche qui una leggera deviazione. Esatto. È questo. Infatti non capivo. Ho detto come ha fatto. Un po' si è addeviata. Mamma mia ragazzi. Sentai. Mamma mia c'ha la panza Lukaku. Mannaggia. La miseria. Guarda Lazio come sta lì a far pressione. Mo cambia un po' il gioco della Lazio. Perché Caeseto va a giocare come punta centrale. Esatto. E va a fare da sponda per le due ali che salgono oppure per Immobile che gli gira intorno. Capito? Gli fa da pendolo intorno. Si scambiano i ruoli. No no. Caeseto sponda con Immobile che gli fa da pendolo intorno. Così capito? Marusic. Tiro. Attenzione. La presa col braccio. Fischi. Arbitro. Bravo. Fisico. Arbitro ha presa che le mani e ci fischi il fallo. Grazie. Punizione Lazio. Milinkovic col piedone. Mamma mia ragazzi. Io non lo so guarda. Camminando. Nemmeno correndo. C'ha una fisicità. Sfrutta al massimo ogni parte del suo corpo Milinkovic. Fantastico. Fantastico. Bene. Angolo Lazio. Guarda come ha avvelenato Ciro Immobile. Ragazzi Immobile è proprio avvelenato. C'ha voglia di golle. Se avete proprio. Lo davo per finito parola fino a qualche tempo fa. Io no. Ho sempre detto. Mamma mia parola. E come se può essere utile a sta Lazio? E come? Guarda Immobile tu sta. Tre quarti campo nostra. Quando è così vuol dire che sta bene fisicamente. Guarda. Ora si ripropone un'altra volta. Guarda. Guarda. Guarda Immobile quanto corre. Ragazzi. La Lazio sta benissimo. Benissimo. Brillantissima. Determinante gli ultimi 20 minuti di Marusic. Anzi il secondo tempo di Marusic. Determinante soprattutto difensivamente parlando. Esce Faraoni. Io Faraoni me lo riprenderei. Ottantaduesimo minuto. Rilancio di Stragoscia. Ragazzi. Ancora un fallo fischiato a parolo inesistente. Ha preso palla. Ha preso palla. Ha preso palla. Inesistente. Starbito deve crescere tanto. Starbito deve davvero crescere tanto. Punizione data al Verona. Ha regalato al Verona. Lui Sanbeco fa correre. Lukaku 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 Lukaku. C'è anche Marusic. C'è anche Marusic Lukaku per Ciro e Immobile. Ciro e Immobile. Ma cosa ha fatto? Ma cosa ha fatto? Ma cosa ha fatto Ciro? Cosa ha fatto Ciro? Ma che si è inventato Ciro? Mamma mia. Che gol di Ciruzzo. Ragazzi. Cosa ha fatto Ciro? È un gol da genio del calcio. Da fuori classe. Lukaku gli dà la palla. Ciro. 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 No. Ragazzi. Ragazzi. Lukaku per Ciro e Immobile che si inventa. Ma tu l'ha messa. Si inventa un tiro a giro senza nemmeno stoppare. La palla che va sotto l'incrocio dei pali. Un gol da Cinedega. Una cosa meravigliosa. Cimuzzo. 33 reti. 33 reti. Attenzione perché con questo guaglia Angelillo sugli italiani più prolifici in una sola stagione sui italiani che hanno segnato più gol in un solo anno appunto in Serie A. Immobile nella storia del calcio italiano ragazzi. Oh l'avevo detto all'inizio della partita. L'avevo detto. 1-2. 1-2. 1-2. Ho detto 1-2. 3 pure. Però 2. Mamma mia. 3. Ma non ne so. No vabbè. Però ragazzi. 84 esimo minuto. La Lazio quindi chiude il match. 4-1. Quindi complimenti comunque al Verona. Ci ha messo in difficoltà quei 10-15 minuti a inizio ripresa. Perché per il resto nel complesso forse risultato troppo largo. Come diceva Fabrizietto a favore della Lazio. Non lo so. Però ragazzi. Metti c'è sta genialata d'immobile che non era prevista. Mamma mia. Mamma mia che gog ha fatto. Alla di bala. È un gol di intuito fantastico. Perché nemmeno ha alzato la testa a vedere il portiere. È come se ha sentito il portiere un po' fuori dalla porta e l'ha seccato. È un gol che si fanno su FIFA. Gol. Sì bravo. L1-R1 no? L1-R1. No fai R1 a giro. R1 a giro. Scusate. R1 a giro. Fallo su Luis Felipe. Ragazzi Luis Felipe tanta roba ragazzi. Sta a cercare la capocciata. Questo era fallo su Milinkovic arbitro. Arbitro era fallo su Milinkovic. Mannaggia a te. Ancora Parolo che intercetta l'ennesimo pallone. Ancora Caiseto che la prende. Mamma mia. Lazio se prende la palla buona va in contropiede. Verona tutta in avanti. Dai 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 ragazzi. Pure Verona è spugnata. Aspettate. Ennesima partita in rimonta della Lazio. La nona partita se non sbaglio. Sono 28 punti che la Lazio mette in cascina in rimonta. Da situazioni di svantaggio. 28. Numeri paurosi. 28 punti in rimonta ragazzi. Numeri da grandissima squadra. Numeri paurosi. Numeri che tutti noi dobbiamo tenere a conto prima di giudicarsi i ragazzi. Tutti. E già che piagnavamo dopo Lecce, dopo Torino. Io capisco che era ammarico. Però ragazzi ma come si fa a critica questa squadra? Ma come si fa? Guarda Parolo. Parolo. Ennesima palla rubata. Riparte il break della Lazio. Ci riprova la Lazio. Andre Anderson. Accelerata di Andre Anderson. Attenzione Ciro Immobile. Ciro Immobile. Ciro Immobile. Ciro Immobile. Entra in era di rigore. Oh! Questo è rigore. Rigore. Calcio di rigore per la Lazio. Attenzione. Ma Immobile. A 93. Ma ho fatto un allungo palloso. Questo qui non è. Bravo Andre Anderson. E Caiseta. Ancora lui. È partita l'azione da lui. Ammonito Radunovic. E poi ci sta Andre Anderson che ha fatto tutto bene. Ha lanciato perfettamente Immobile. Non è rigore. Però allora io dico rigore generoso perché sono corretto. Non è. Il contatto col portiere c'è ma a parto dal presupposto. Non c'è. Non è il contratto col gomito sinistro del portiere c'è. Ma a parto dal presupposto che si è mai dato quel rigore vergognoso al primo tempo al Verona. Questo è il rigore tutta la vita. Calcio del rigore per la Lazio. Oddio oddio oddio. Attenzione perché Immobile. Mamma mia. È un rigore storico. Attenzione per tanti motivi. Attenzione. Chi bag? Non è Immobile. Ah no. Luisa Alberto. Luisa Alberto. Ragazzi. Ciro Immobile lascia la palla a Luisa. Ciro Immobile che lascia la palla a Luisa Alberto. Poi aspetta. No. No. Attenzione. Immobile l'ha lasciato a Luisa Alberto. Ma Luisa gli ha detto. Ma che sei scemo. Vai tu. Vai tu. O è arrivato un ordine dalla panchina. Ragazzi. Un rigore fondamentale per Immobile. Se la mette dentro ve lo dico perché. Attenzione. 94. Minuto. Calcio del rigore per la Lazio. Ciro Immobile. Ciro Immobile. Ciro Immobile. Ragazzi. Lazio 5 per ora. 1 Immobile nella storia. 34 reti. Nessun italiano ha fatto meglio di lui. In Serie A. Ringrazio a Luisa Alberto che gli ha lasciato la palla. Ragazzi. Un rigore impeccabile. Portiere spiazzato. Immobile nella storia del calcio italiano. Uno dei più grandi attaccanti di sempre. Non lo dico io. Lo dicono i numeri. Ma attenzione. Ciro Immobile con questa tripletta. Che quasi quasi l'avevo preannunciata a inizio partita. Con questa tripletta. Iuri ce non ride più eh. Con questa tripletta. Immobile aggancia Lewandowski in vetta alla classifica dei marcatori europei. 34 reti. E mancano ancora due partite ragazzi. Mamma mia ragazzi. La Lazio 5 a 1 con Verona. L'arbitro fischia la fine. È finita. Agguantiamo l'Atalanta. Agguantiamo l'Atalanta. Rimaniamo lì. La Lazio adesso Immobile ride come un pazzo. Giustamente si porta a casa. Giustamente il pallone. Festeggiato da tutti i compagni. A cominciare da Luisa Alberto. La Lazio è forte. Basta. Non voglio più storie. La Lazio è forte. Vai Fabrizio. Vai in chiusura te. Papà vai. Come sempre. So che mi lo direte. Ma lo devo fare. Vi ricordo di iscrivervi al canale. Se ancora non lo avete fatto. Lasciate in bella il cozzo. Per supportarci. Se vi fa piacere. Se lo ritenete corretto. Vi ricordo come sempre. di condividere anche. Per allargare. E far più grande. La community che siamo. Quindi grazie a tutti. Per la visione. Da Manuel. E da Fabrizio. E come al solito. Forza Lazio. Ce la faccio più. Basta. Ciao a tutti. Ce la faccio più.